Ho servito un signore che adesso mi abbandona nelle mani dei miei nemici, disse Elia. Dio è Dio, rispose il Levita. Egli non disse a Mosè se era buono o cattivo, egli disse solo io sono. Egli è dunque tutto ciò che esiste sotto il sole, il fulmine che distrugge la casa e la mano dell'uomo che la ricostruisce. Parlare era l'unica maniera per dissipare la paura. Da un momento all'altro i soldati avrebbero aperto la porta della stalla dove si trovavano, li avrebbero scoperti e offerto loro l'unica scelta possibile, adorare Baal, il dio fenicio, o essere condannati a morte. Stavano perquisendo casa per casa, convertendo o condannando a morte i profeti. Forse il Levita si sarebbe convertito e sarebbe così sfuggito alla morte. Ma Elia non aveva scelta, tutto stava accadendo per colpa sua e Gezabele voleva comunque la sua morte. È stato un angelo del Signore a costringermi a parlare con il riacab e ad annunciargli che non avrebbe piovuto finché Baal fosse stato adorato in Israele. Disse, quasi chiedendo perdono, per avere prestato ascolto alle parole dell'angelo. Ma Dio agisce lentamente quando la siccità comincerà a fare effetto. La principessa Gezabele avrà già distrutto tutti coloro che saranno rimasti fedeli al Signore. Il Levita non disse nulla, stava riflettendo se convertirsi a Baal o morire in nome del Signore. Chi è Dio? proseguì Elia. È forse lui che impugna la spada del soldato che uccide quando non tradiscono la fede dei nostri patriarchi. È stato lui a porre una principessa straniera sul trono del nostro paese in modo che tutte queste sventure potessero accadere alla nostra generazione. Dio uccide i fedeli, gli innocenti, coloro che seguono la legge di Mosè? Il Levita prese la sua decisione. Avrebbe preferito morire. E a quel punto cominciò a ridere perché l'idea della morte non lo spaventava più. Si rivolse al giovane profeta al suo fianco e cercò di tranquillizzarlo. Domandalo a lui, già che dubiti delle sue decisioni, disse. Io ho accettato ormai il mio destino. Il Signore non può desiderare che siamo tutti spietatamente massacrati, soggiunse Elia. Dio può tutto, qualora si limitasse a fare soltanto ciò che chiamiamo il bene. Non potremmo definirlo onnipotente. E lì dominerebbe soltanto una parte dell'universo ed esisterebbe qualcuno più potente di lui che sorveglia e giudica le sue azioni. E in tal caso io adorerei questo qualcuno più potente. Ma se egli può tutto, perché non risparmia dalla sofferenza coloro che lo amano? Perché non ci salva invece di concedere potere e gloria ai suoi nemici? Oh, non lo so, rispose il Levita, ma una ragione c'è e spero di conoscerla presto. Non hai alcuna risposta per questa domanda? No, non ce l'ho. Rimasero in silenzio. Elia sudava freddo. Tu sei terrorizzato, ma io ormai. Ho accettato il mio destino, gli disse il Levita. Uscirò e metterò fine a questa agonia e ogni volta che sento un grido là fuori io soffro, immaginando come sarà quando giungerà la mia ora. Per tutto il tempo che siamo rimasti qui rinchiusi, sono già morto un centinaio di volte e avrei potuto morire una volta sola, giacché sarò decapitato che avvenga il più rapidamente possibile. E aveva ragione. Elia aveva udito le stesse grida e aveva già sofferto, al di là delle proprie capacità di resistenza. Vengo con te. Sono stanco di lottare per qualche ora di vita in più. Si alzò e aprì la porta della stalla, lasciando che il sole entrasse e mostrasse i due uomini nascosti. Il Levita lo prese per il braccio e cominciarono a camminare. Se non fosse stato per qualche grido ogni tanto, quello sembrava un giorno normale in una città come tante altre, un sole non molto caldo, un venticello che proveniva dal lontano oceano, rendendo la temperatura persino gradevole, impolverate le strade e le case fatte di creta e di paglia. Le nostre anime sono imprigionate dal terrore della morte e la giornata è bellissima, disse il Levita. Molte altre volte, quando mi sentivo in pace con Dio e con il mondo, il tempo là fuori era orribile, il vento del deserto mi riempiva gli occhi di sabbia e non mi faceva vedere a un palmo davanti a me. Vedi, non sempre il suo piano coincide con ciò che siamo o che stiamo sentendo, ma ti garantisco che per tutto ciò egli ha una ragione. Ammiro la tua fede, il Levita guardò il cielo come se stesse riflettendo e poi rivolse ad Elia. No, non farlo e non credere tanto, è una scommessa che ho fatto con me stesso. Ho scommesso che Dio esiste. Ma tu sei un profeta, ribatte Elia, tu ascolti le voci e sai che c'è un altro mondo al di là di questo. Boh, può essere anche una mia fantasia. Ma tu hai visto i segnali di Dio, insistette Elia, cominciando a preoccuparsi per i commenti del compagno. Può essere una mia fantasia, fu di nuovo la risposta. In realtà l'unica cosa concreta che ho è la mia scommessa. Mi sono detto che tutto ciò proveniva dall'Altissimo. La strada era deserta, le persone dentro alle case aspettavano che i soldati di Acab portassero a compimento quanto richiesto loro dalla principessa straniera, uccidere i figli di Israele. Elia camminava con il Levita e aveva la sensazione che dietro ciascuna di quelle finestre e quelle porte qualcuno lo stesse osservando e incolpando di quanto accadeva. Beh, non ho chiesto io di essere un profeta. Forse tutto ciò è anche frutto della mia immaginazione, rifletteva Elia. Dopo quanto era successo nella falegnameria, sapeva che non era così. Fin dall'infanzia udiva delle voci, parlava con gli angeli. Quando i suoi genitori lo avevano spinto a cercare un sacerdote di Israele, colui, dopo avergli rivolto molte domande, lo aveva identificato con un nabi, un profeta, un uomo dello spirito, colui che si esalta con la voce di Dio. E dopo avere trascorso molte ore a parlare con lui, il sacerdote aveva annunciato ai suoi genitori che tutto ciò che il bambino avesse detto doveva essere preso sul serio. Quando erano usciti, i genitori avevano preteso da Elia che non raccontasse mai a nessuno ciò che vedeva o sentiva, perché essere un profeta significava avere dei legami con il governo, e questo era sempre pericoloso. Comunque sia, Elia non aveva mai più sentito nulla che potesse interessare a sacerdoti o re. Parlava solo con il suo angelo custode e ascoltava i consigli che riguardavano la sua vita. Ogni tanto aveva delle visioni che non riusciva a capire. Oceani lontani, montagne popolate di strani esseri, ruote con ali e occhi. E quando le visioni scomparivano, lui, obbediente ai genitori, faceva di tutto per dimenticarle il più rapidamente possibile. Per questo le voci e le visioni erano divenute sempre più rare. I suoi genitori ne erano contenti e non avevano mai più toccato l'argomento. Quando poi aveva raggiunto l'età per badare a se stesso, e allora gli avevano prestato il denaro per aprire una falegnameria. Guardava continuamente gli altri profetti che camminavano per le strade di Gileade indossando lunghe cappe di pelle e cinture di cuoio e affermavano di essere stati scelti dal Signore per guidare il popolo eletto. Beh, davvero non era quello il suo destino. Non sarebbe mai stato capace di ridestare uno stato di trance con danze o con l'autoflagellazione, che era una prassi usuale tra gli esaltati dalla voce di Dio, perché aveva paura del dolore e non avrebbe mai camminato per le vie di Gileade esibendo orgogliosamente le cicatrici delle ferite procuratesi durante l'estasi, perché lui era troppo timido. Elia si considerava una creatura normale, che si vestiva come tutti gli altri e che torturava solo la propria anima con gli stessi timori, le stesse tentazioni dei semplici mortali. A mano a mano che incrementava il lavoro nella falegnameria, le voci andarono via via diminuendo fino a cessare, perché gli adulti e la gente che lavora non hanno tempo per queste cose. I genitori erano contenti del figlio e la vita trascorreva in armonia e in pace. La conversazione con il sacerdote quando era ancora un bambino era divenuta soltanto un lontanissimo ricordo. Elia non poteva credere che Dio onnipotente avesse bisogno di parlare con gli uomini per far valere i propri ordini. Quanto era accaduto e la sua infanzia erano soltanto la fantasia di un ragazzo che non aveva niente da fare. A Gileade, la sua cittadina natale, c'erano alcune persone considerate matte dagli abitanti. Non riuscevano a esprimersi in maniera coerente ed erano incapaci di distinguere tra la voce del signore e i deliri della folla. Trascorrevano la vita per la strada, predicando la fine del mondo e vivendo della carità altrui. Nessuno dei sacerdoti comunque li considerava come esaltati dalla voce di Dio. Elia aveva finito per concludere che i sacerdoti non erano mai sicuri di ciò che affermavano. Gli esaltati di Dio erano la conseguenza di un paese che non conosceva la propria strada, dove i fratelli lottavano tra loro e dove si susseguivano continuamente nuovi governi. Non c'era nessuna differenza tra profeti e matti. Quando aveva saputo del matrimonio fra il suo re e Gezzabele, la principessa di Tiro, non vi aveva dato molta importanza. Altri re di Israele avevano fatto la stessa cosa e il risultato era stata una pace durevole nella regione, con un commercio sempre più importante con il Libano. Poco importava ad Elia se gli abitanti del paese vicino credevano a dei che non esistevano o si dedicavano a strani culti come adorare gli animali, le montagne. Erano onesti negli affari e questo era ciò che più contava. Elia aveva continuato ad acquistare il cedro che portavano e a vendere i prodotti della sua falegnameria. E sebbene fossero alquanto orgogliosi e amassero definirsi fenici per via del diverso colore della pelle, nessuno dei commercianti del Libano aveva mai cercato di trarre profitto dalla confusione che regnava in Israele. Quando aveva saputo del matrimonio fra il suo re e Gezabele, la principessa di Tiro, non vi aveva dato molta importanza. Altri re di Israele avevano fatto la stessa cosa e il risultato era stata una pace durevole nella regione, con un commercio sempre più importante con il Libano. Poco importava a Elia se gli abitanti del paese vicino credevano a dei che non esistevano o si dedicavano a strani culti come adottare gli animali, adorare le montagne. Erano onesti negli affari e questo era ciò che più contava per lui. Elia aveva continuato ad acquistare il cedro che portavano e a vendere i prodotti della sua falenameria. Sebbene fossero alquanto orgogliosi e amassero definirsi i fenici per via del diverso colore della pelle, nessuno dei commercianti del Libano aveva mai cercato di trarre profitto dalla confusione che regnava in Israele. Pagavano il giusto prezzo per le mercanzie e non proferivano alcun commento sulle continue guerre interne e i problemi politici che gli israeliti vivevano in permanenza. Dopo essere salita al trono, Jezabele aveva chiesto ad Acab che il culto del Signore fosse sostituito con quello degli dei del Libano. E anche questo era già accaduto in precedenza. Elia, sebbene fosse indignato per il consenso di Acab, aveva continuato ad adorare il Dio di Israele e a rispettare le leggi di Mosè. Passerà, pensava, Jezabele ha seduto Acab ma non avrà forza sufficiente per convincere il popolo. Ma Jezabele non era una donna come le altre. Era convinta che Baal l'avesse fatta venire al mondo per convertire i popoli e le nazioni. Con abilità e pazienza aveva cominciato a ricompensare tutti coloro che abbandonavano il Signore e che accettavano le nuove divinità. Acab aveva fatto erigere una dimora per Baal in Samaria e il culto per gli dei del Libano cominciava a diffondersi dappertutto. Ma sì, passerà. Potrà durare forse una generazione, ma passerà, continuava a pensare Elia. Ma poi era accaduto quello che non si aspettava. Un pomeriggio, mentre stava ultimando un lavoro nella sua falegnameria, tutto rabbugliato, e migliaia di punti bianchi avevano cominciato a scintillare intorno a lui, la testa gli doleva come non mai, voleva sedersi, ma non riusciva a muovere un solo muscolo. E non era frutto della sua immaginazione. Sono morto, aveva pensato nello stesso istante, e sto scoprendo dove ci manda Dio dopo la morte. Lui dice sto morendo e Dio vuole farmi vedere dove andiamo a finire dopo la nostra morte, ok? Una luce si era intensificata nel suo bagliore e all'improvviso, come se provenisse da ogni luogo contemporaneamente, gli zunse la parola del Signore che gli ordinò di riferire ad Acab. Per via del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io. Faccio penitenza quando sbaglio, lo segnalo perché nel frattempo registro la lettura, ok? A beneficio di altre persone in altre case di riposo. Un attimo dopo tutto era tornato alla normalità. La falegnameria, la luce del tramonto, le voci dei bambini che giocavano per la strada. Quella notte Elia non era riuscito a dormire. Per la prima volta, dopo tanti anni, erano ritornate le sensazioni dell'infanzia e non era il suo angelo custode che gli stava parlando, ma qualcosa di più potente e di più forte. Aveva avuto paura che, se non avesse obbedito all'ordine, tutti i suoi affari potessero venire a maledetti. Il mattino dopo, aveva deciso di fare ciò che gli era stato chiesto. E in fin dei conti, lui era solo il messaggero di qualcosa che non lo riguardava. Una volta concluso questo compito, le voci non lo avrebbero più disturbato. E non era stato difficile ottenere udenza dal re Acab. Molte generazioni addietro, con l'ascesa al potere di Samuele, i profeti avevano acquistato importanza negli affari e nel governo dei rispettivi paesi. Potevano sposarsi, avere figli, ma dovevano essere sempre a disposizione del Signore affinché i governanti non si allontanassero mai dalla retta via. Secondo la tradizione, grazie a questi esaltati dalla voce di Dio, numerose battaglie erano state vinte e Israele sopravviveva perché i suoi governanti, quando si allontanavano dalla retta via, avevano sempre accanto a sé un profeta che li riportava sul sentiero del Signore. E una volta al cospetto del re Elia lo aveva avvertito che una siccità avrebbe colpito la regione fino a quando non fosse stato abbandonato il culto degli dèi fenici. Il sovrano non aveva prestato granché attenzione alle sue parole, ma Gezabele, che si trovava accanto ad Acab e ascoltava attentamente ciò che Elia diceva, aveva cominciato a fare una serie di domande su quel messaggio. Elia le aveva raccontato della visione, del dolore alla testa, della sensazione che il tempo si fosse fermato mentre ascoltava l'angelo. Mentre descriveva quanto gli era accaduto, poteva osservare da vicino la principessa di cui tutti parlavano. Era una delle donne più belle che avesse mai visto, con lunghi capelli neri che le scendevano fino alla vita e un corpo modellato perfettamente. I suoi occhi verdi che brillavano nel volto bruno erano fissi negli occhi di Elia, ma lui non riusciva a decifrare ciò che volevano dire e non poteva sapere quale impatto stessero provocando le sue parole. Se ne era andato convinto di avere compiuto la propria missione e di potersene tornare al proprio lavoro nella falegnameria. Sulla via del ritorno aveva desiderato Gezabele con tutto l'ardore dei suoi 23 anni e aveva chiesto a Dio di poter incontrare nel futuro una donna nel Libano, perché le donne del Libano erano belle, con la pelle scura e con gli occhi verdi carichi di mistero.